No, spero che se ne vada. Perché mi sono grattata al collo prima del video? Che caldo, che caldo, che caldo. Ciao a tutti, io sono Giulia e vi do il benvenuto sul mio canale interamente dedicato al cinema. Oggi sono qui per un altro story time. Se mi seguite sul mio Instagram dedicato al cinema, e se non lo fate ve lo lascio qui sotto nell'info box, sappiate che in questo periodo sto facendo un mega rewatch di tutti i film Disney, guardandomeli proprio in ordine cronologico, dal primo che è uscito fino all'ultimo. E tutta questa bellissima avventura che sto facendo alla riscoperta della mia infanzia mi ha riportato alla mente quegli anni in cui avevo abbandonato la Disney. Detto da me può sembrare assurdo, è un tasto dolente della mia adolescenza, ma penso che sia il momento giusto per confessarsi. Direi di partire con lo story time per spiegare meglio questo mio grave errore. Erano gli anni delle medie e sapete che in quegli anni o sei il bulletto di turno o sei quello bullizzato. Ecco, io facevo parte della seconda categoria. Poi oltretutto sono anche gli anni in cui vuoi sentirti parte di un gruppo, vuoi essere accettato in tutti i modi possibili. E una cosa per cui venivo presa di mira erano proprio film Disney che venivano reputati film per bambini. Quindi se li guardavi allora eri ancora una bambina e non eri degna di avere amici o tutte queste cavolate. E io, spinta dal desiderio di essere accettata a tutti i costi e non essere più presa di mira, ricordo che una volta, tutta arrabbiata, sono tornata a casa e ho preso tutte le mie VHS, tutti i DVD che avevo della Disney e della Pixar e li ho dati a mia mamma chiedendole di portarli in garage. Cioè non li volevo neanche più vedere, quindi avevo chiesto a mia mamma letteralmente di farli sparire. Ma in tutti quegli anni solo una VHS era rimasta semplicemente perché non ci stava nello scatolone. E me lo ricordo ancora, era la VHS di Lilo e Stitch. E quindi era rimasta nel mio scaffale e ricordo che per tanti anni ho continuato a passare davanti a quella cassetta a fare tipo Ma io voglio vederti, mi manchi, io ti voglio vedere. Questo abbandono è durato un anno, forse quasi due, non saprei dirvi. Poi però c'è stato quel giorno in particolare in cui letteralmente non ce la facevo più, non resistevo anche perché io vivevo di Disney, letteralmente. Io ho sempre amato i film d'animazione, quindi era come un negare una parte di me stessa. Quando poi ho preso consapevolezza di quanto fosse stupida una scelta del genere, ho chiesto a mia mamma di riportarli tutti su, tutti a casa, dove dovevano stare e me li sono riguardati tutti quanti da capo insieme a mio papà perché a guardarli da sola mi sentivo a disagio perché avevo ancora quelle vocine, quelle prese in giro e via dicendo e invece guardarli con mio papà mi faceva sentire meno sola. Mi spiego, era come se pensassi, ok, li guarda anche lui che è adulto, non devo sentirmi a disagio se li vedo anch'io e quindi insieme alla sua compagnia ho ripreso a guardarli. Mi ricordo che è stato nel 2013 che ho ripreso i film Disney perché è stato l'anno in cui poi ho chiesto ai miei genitori di tornare a Disneyland perché era come una sorta di riappropriazione di qualcosa che ho permesso agli altri di togliermi e che mi sono tolta. Quindi da lì ho ripreso in mano la Disney e non l'ho più mollata. Mi viene da piangere se ci penso. No, non la mollerò mai più. Anche perché io parlo tantissimo dei film d'animazione sul mio canale perché è un genere che a me piace da morire, mi piace tantissimo. Poi il fatto che adesso lavoro con i bambini è anche un punto in più per me perché prima guardo io i film e poi vedo se farli vedere anche i bambini con cui lavoro. Anche perché molti film sono d'animazione, vengono spacciati per film per bambini e poi non lo sono assolutamente. Riferimenti a Coraline puramente casuali, anche se non è Disney. Comunque direi che ho rimediato a questo bruttissimo errore passato e una cosa del genere non si ripeterà più anche perché comunque quelli erano degli anni estremamente fragili. L'adolescenza in generale. E io mi facevo un po' trascinare da tutto per cercare di essere accettata da più persone possibili. Da quando ho iniziato a fregarmene è iniziata la salita e la ripresa della mia passione più grande ossia il cinema e in particolare i film d'animazione. Comunque spero che questo breve story time vi abbia tenuto compagnia. Io vi ringrazio veramente tantissimo se mi avete ascoltata fino a questo punto. Io vi mando un abbraccio fortissimo e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! 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 Ciao!